Andiamo avanti con un'anticipazione di quanto potrete ascoltare questa sera nel corso di Radio 3 Suite a partire dalle 22.30 per la serie Festival dei Festival, un concerto registrato durante la nona edizione della miata Piano Festival, edizione dunque del 2013 che ebbe nella data del 27 luglio presso Poggi del Sasso, Francesca Dego al violino e violoncello Silvia Chiesa, pianoforte Mariangela Vacatello. E allora è questa l'occasione anche per ricordare che quest'anno la miata Piano Festival festeggia la decima edizione dopo la prima serie di concerti avutasi nel ultimo fine settimana di giugno, ci sarà nel fine settimana da giovedì, un fine settimana lungo, 24 luglio, 25 poi, 26 e 27 luglio appunto, un quartetto di concerti di prestigio con Andrea Bacchetti insieme ad Emanuele Baldini e Alfredo Zamarra e Massimiliano Martinelli, poi il 25 Anna Tifu insieme al violino insieme alla pianista Gloria Campanerra, il 26 Gianluca Cascioli nella doppia veste di pianista e compositore, oggi lo dico in particolare visto che ci stiamo dedicando alla modernità e sul palco avremo anche Silvia Chiesa e Maurizio Baglini, direttore artistico della manifestazione, infine un omaggio a Claudio Abbado con il trio di Parma e il violoncellista del trio Enrico Bronzi che ha lavorato a stretto contatto con il maestro. Dunque ascoltiamo dal concerto di cui vi dicevo 27 luglio 2013, Francesca Dego, Silvia Chiesa, Mariangela Vacatello, un estratto dal trio numero due di Felix Mendelssohn, Movimento Scherzo.